È Moro Cornioli con il 68,2% di voti il nuovo sindaco di Sansepolcro. Daniela Frullani, sindaco uscente, targato PD, arriva al 31,78. Quella di Cornioli può essere interpretata come la vittoria delle liste civiche sulla politica, una vittoria di larga misura che consegna a Sansepolcro una compagine trasversale composta da tre liste civiche, insieme possiamo, democratici per cambiare, e il nostro borgo. Indubbiamente un bel segnale al modo di fare politica più tradizionale. Anche a Sansepolcro, come Montevarchi, c'è stato un calo nell'affluenza al voto. Al primo turno aveva votato il 68,63% degli aventi diritto, mentre al secondo il 59,26%. La prima cosa che faremo sarà una ricognizione dello stato dell'arte, dunque capire quali siano contratti, finanziamenti, bilancio. Queste sono le cose basilari per partire e per riuscire a programmare subito, immediatamente, attività complesse. Queste saranno le prime cose che faremo. Grazie a tutti i concittadini, grazie a tutti quelli che mi hanno votato, grazie a tutti i borghesi. Da oggi, aria nuova, come abbiamo detto quando ci siamo presentati tre mesi fa. Una coalizione trasversale fatta da persone generose che venivano dalle associazioni, dal volontariato, dal mondo dell'impresa. Io ho donato, ho lasciato la mia azienda e dono cinque anni della mia vita alla mia città. Questa è stata la passione, questo è stato il cuore, questo è stato il messaggio che è passato. Impegno, determinazione, volontà, questo sarà il filo conduttore del nostro mandato. Il lavoro, il lavoro è stato uno dei punti cardini del nostro programma. Su questo imposteremo fin da oggi, da subito, con massima determinazione, il nostro percorso. I nostri giovani devono avere risposte. Ci siamo impegnati perché i giovani restino a Sansepolcro, una nostra bella città, con un grande cuore. Questa è la nostra forza e da oggi Sansepolcro rinasce.